Al momento Daniele è e resterà un giocatore dell'Avellino, si è trovato benissimo, una piazza come Avellino è desiderata a qualsiasi giocatore, quindi ad oggi resta un giocatore dell'Avellino e a breve ci saranno sviluppi, penso anche per quanto riguarda la convocazione e l'organizzazione della prossima stagione. Abbiamo avuto il piacere di conoscere il mister a Cosenza, è una persona seria, preparata e penso che possa dare una grandissima mano sia a Daniele a esprimersi al meglio in campo che alla piazza a ritornare nelle categorie in cui emedita. Potrebbe esserci qualche altro affare con l'Avellino? Il mio socio ha sentito ridirettore qualche giorno fa, al momento non bolle nulla in penso anche perché il mercato è ancora lento, però magari avessi una pedina utile per l'organico del mister, sicuramente è un piacere.